Questa è la vostra esperienza, è vivere una battaglia di Brunzo, lottata fino all'ultimo secondo? Sì, è iniziale di Brunzo, lottata fino all'ultimo secondo e è inaspettabile perché noi pensiamo solamente a fare il nostro meglio. Poi è andata bene, ci va bene così, esperienza unica. Ma Giuseppe, quali? Ma vabbè, già essere alle Olimpiade è una soddisfazione immensa perché alle spalle diciamo delle Olimpiade ci sono anni e anni di preparazione. Noi siamo andati lì diciamo senza pensieri, siamo andati lì tranquilli e alla fine magari questa cosa ci ha fatto. Qui oggi si celebra anche l'eccellenza nel campo culinario perché l'eccellenza di campagna era sponsor di Casitalia. Sì, l'eccellenza di campagna era sponsor di Casitalia, infatti si mangiava benissimo. In Italia, questa è una cosa bellissima perché così che lo c'è nel nostro piccolo, in questa campagna tanto criticata, ci sono delle eccellenze che sono sia asfaltive, sia culinare e neanche tante altre secondo me. Eccellenze, campane anche culinarie anche grazie a Enzo Politeglio che a Casa Italia ci ha davvero sostenuto tutti i giorni facendoci trovare il cibo veramente magnifico, quindi anche perché poi Casitalia ha vinto il premio come casa più bella di Rio e forse anche per questo perché comunque c'era la campagna in mezzo a questa cosa e quindi fa piacere noi campani di essere presenti anche magari in una competizione importantissima per lo sport ma essere presenti anche nel cibo.